L'amministrazione comunale lo considera un passo importante per la città e per questo voluto sancirlo con un incontro nella sala del Consiglio Comunale. Si tratta della sottoscrizione del nuovo accordo territoriale per i contratti concordati di locazione che a giudizio del sindaco Costa dimostrano l'interesse della comune verso un settore come quello immobiliare che da tempo soffre una crisi profonda. Come ribadito nel corso dell'incontro, l'accordo potrà contribuire alla sua rilancio attraverso contratti concordati di locazione che rispecchiano le esigenze di proprietari e conduttori e consentono un rilevante risparmio d'imposta con la cittolare secca al 10% e con la riduzione di IMU e Tasi del 25%. Presenti i responsabili regionali di Confedilizia e Sunia e di rappresentanti provinciali delle altre associazioni di categoria, Conia, Assocasa, agenti immobiliari oltre le stesse Sunia e Confedilizia, a rappresentare il comune, il vice sindaco e la sezione all'urbanistica. L'accordo territoriale è stato depositato presso il comune di Vibo Valencia, la regione e l'Agenzia delle Entrate. Questo è veramente un risultato importante perché consentirà ai proprietari e gli stessi inquilini di sottoscrivere un contratto di locazione che avrà delle agevolazioni per entrambe le parti, ricordo l'IMU e la Tasi al 25%, quindi una scontistica, una riduzione quantomeno delle relative imposte, oppure ricordo anche la possibilità di utilizzare la cittolare secca al 10%, quindi sono previste le agevolazioni fiscali che sono relative e successive a questa convenzione che abbiamo sottoscritto con le associazioni che rappresentano sia i proprietari che gli inquilini e che quindi porteranno al nostro territorio una possibilità di ricorrere ai contratti di locazione con dei canoni agevolati, quindi secondo noi è una buonissima opportunità che non ci dovevamo perdere. Lei ha sottolineato la soddisfazione dell'amministrazione che ha voluto questo tipo di accordo, suddividendo anche i settori. Ci sono appunto diversi settori che sono previsti nella stessa convenzione, più che settori delle zone. In relazione alle unità immobiliari presenti nelle diverse zone ci saranno dei canoni che ovviamente saranno relative e corrispondenti anche agli indicatori IMU che si trovano presso all'agenzia delle entrate, però sono più bassi rispetto a quelli che oggi applicano utilizzando i contratti normali. Inoltre c'è la possibilità di sottoscrivere dei contratti di locazioni che sono di durata diversa, tipo il 3 più 2 piuttosto che il 4 più 4, oppure dei contratti per gli studenti universitari, dei contratti temporanei e fino ad oggi non era prevista questa possibilità.